Insonnia, quanto incide sulla nostra bellezza? Rigirarsi sul letto consapevoli che domani ci aspetta una giornata piena, osservare il soffitto nell'oscurità accompagnate da pensieri, specchiarsi al mattino constatando le infelici borse sotto gli occhi oppure cocchiaie più marcate. L'insonnia può essere nostra compagna durante i periodi più stressanti, tutti sappiamo che la qualità del sonno è importantissima, infatti se non dormiamo in modo corretto aumentano le rughe e i segni di espressione, la pelle non si rigenera, il viso appare più stanco, si formano le antistetiche occhiaie scure eppure a volte non riusciamo proprio a dormire. Un piccolo aiuto per ritrovare sonni tranquilli è utilizza la melatonina insieme alla passiflora, escolzia e valeriana. Assumi una bustina di magnesio durante la giornata, fai ecco dei respiri profondi prima di andare a letto e cena sicuramente due ore prima di andare a dormire. Assumi una bustina di magnesio durante la giornata, fai ecco dei respiri profondi prima di andare a dormire.